La massima categoria insieme ai più giovani, categoria Uniones, sono partiti, passaggio di meno 59. La massima categoria insieme ai più giovani, categoria Uniones, sono partiti, passaggio di meno 57, 267 eliminato, ora due giri, due giri dove non dovrebbe accadere nulla meno che e ora Ruschi va a prendere la prima posizione, passaggio di meno 55, un attacco di parte da parte di Matteo Barison, Ruschi in seconda posizione, Barison, Ruschi, attenzione perché al prossimo passaggio siamo a campana di meno 54, meno 54, meno 54 eliminazione in corso, scusami, meno 54 eliminazione, 323 eliminato, meno 52, gruppo compatto ancora Matteo Barison, prova un lungo, donna di Stefano Daniele, specialista nelle gare di fondo ma soprattutto in questa gara, Barison, di Stefano, Ruschi, 51 giri al termine, 51 giri al termine. di Stefano Daniele, campana di meno 50, campana di meno 50, campana di meno 50, con di Stefano di Stefano Barison, 2 atleti della nazionale e ora eliminazione, 377. Traguardo per Barison e Di Stefano, se ne fermano 2. di Stefano Daniele, salta un'eliminazione mentre siamo a 47 giri dal termine con i due parti strada, Barison di Stefano, Barison di Stefano che hanno acquisito il punteggio, il traguardo di Stefano Barison di Stefano, passaggio di meno 46, campana, salta un'eliminazione, siamo a passare il di meno 44, prossima eliminazione, 41, sempre azione di Barison e Di Stefano, atleta Veneto e atleta la parola della 42 km a in Portogallo 15 giorni fa, siamo a meno 42, campana di meno 42, eliminazione e per loro, adesso il prossimo, campana per loro, il prossimo eliminazione, il prossimo si è fermato, è un'eliminazione, il prossimo si è fermato, siamo a meno 40, ora passaggio di meno 39, 39 giri per Barison e Di Stefano, passaggio, passaggio, suona la campana di meno 28, campana di meno 28, 3, campana di meno 28, campana di meno 38, 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 campana di 16 a morito 3 per Marzi numero 3 per Marzi numero 3 per Marzi 35 per Di Stefano e Bison c'è il fermato prima ora meno 34 campano nell'eliminazione meno 34 anche per fuori ah no no campana per il gruppo campana per il gruppo 2 per 3 a monito eliminazione in corso 16 a morito eliminato scusate campana per la testa campana per la testa campana per il gruppo campana per il gruppo prossimo eliminazione eliminazione in corso e 98 per la testa e 98 per la testa 2,6,8 eliminato 27 giri per Di Stefano e Bison campana per la testa campana per la testa campana per la testa e eliminazione prossimo traguardo prossimo traguardo campana per il gruppo campana per il gruppo 1 per Di Stefano 3,5,6,8 eliminazione eliminazione in corso eliminazione in corso 3,5,6,5 i punti 9,6,1 eliminato ancora i partistrada 1,9,4 a monito passaggio di meno 29 campana per la testa campana per la testa campana per la testa bravo al prossimo la campana per il gruppo pronta eliminazione per il gruppo a Campana Campana, prossimo eliminazione, eliminazione in corso, eliminazione in corso, 266 per le scorrezze, ancora Marisonna in meno 18, campana per la testa, campana per la testa, Paglietta che va a provare a via, un giro e il gruppo che mi pare ancora di due giri, 258 eliminato per taglio di percorso, 258 eliminato per taglio di percorso, 258, 258, Salva questa eliminazione, c'è la campana di meno 14 per la testa, Marisonna di Stefano, passaggio di meno 13, prossimo per voi traguardo, prossimo, Marisonna di Stefano, traguardo a punti, l'ultimo traguardo a punti di Stefano Marisonna, Prossimo eliminazione, prossimo eliminazione, prossimo eliminazione, prossimo eliminazione per il gruppo, 599 eliminato, 59 eliminato, 59 eliminato, Siamo ai milenari, si stacca e si sta fermando anche il numero 1, Campana per la eliminazione ma c'è un atleta staccato eliminazione in corso numero uno eliminato siamo ai meno sette per la testa del gruppo meno sette per la testa del gruppo meno sei campana per la testa del gruppo si stacca ora per la testa del gruppo meno cinque c'è l'eliminazione non sei giù ancora salva l'eliminazione perché si è fermato siamo almeno tre per la testa almeno uno ultimo eliminazione meno uno ultimo eliminazione siamo ai meno tre per la testa 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 del gruppo ultimo giro per il giorno è il giorno l'unico per il giorno di malefono più presto per il resto del gruppo arrivo per i primi due arrivo per i primi due e ultima eliminazione 2.23 no no eccoli che fa 2.23 5 terza posizione eliminato numero 68 resta ora in scorsa con il terzo posto la red numero 2.23 Josue sta arrivando Nelly Sarponi è altissima e al quarto posto Andrea Apolloni ora ragazzi complimenti